salve a tutti, ciao la toolbar barra degli strumenti, barra degli attrezzi eccola qui dunque sto usando la versione pro di roll20 vi ricordo che i browser consigliati sono chrome e firefox al momento ho aperto due finestre questa mi trovo in amministrazione quindi dal lato da cui il dungeon master l'arbitro crea le partite e qui invece dal lato giocatore come vedete e ne avevo già parlato nel terzo video i giocatori hanno una barra dei tool che è ridotta a 6 icone mentre invece il dungeon master ha una barra con 10 icone quali sono le differenze? vediamole punto per punto quindi la prima è il seleziona muovi quindi questo è il puntatore serve a selezionare gli oggetti presenti presenti sulla mappa possono essere selezionati anche puntando il pulsante sinistro puntando il mouse in un determinato punto e trascinando quindi a questo punto io ho tutti gli oggetti che sono presenti in quell'area selezionare il pulsante sinistro questo è un altro discorso allora sempre con il seleziona muovi se tengo schiacciato il pulsante destro e lo muovo mi muovo di conseguenza sulla mappa stessa cosa posso farla con muovila visuale però a questo punto uso il pulsante sinistro e vado in alto ed in basso torno al cursore la seconda icona rappresenta i 4 livelli di roll 20 sui quali poi voi master lavorerete allora ci sono 4 strati il primo strato è la mappa gli sfondi il secondo sono i tokens che rappresentano terreno arredamento ecc ecc mostri miniature il terzo quello delle annotazioni del game master che comunque sono invisibili al resto al gruppo o al giocatore e quello dell'illuminazione dinamica dunque mappa e sfondo allora vedete che praticamente io prima mi trovavo a livello oggetto ora mi sposto e passo a mappa e sfondo dunque la mappa e lo sfondo sono un bitmap unico sono un pezzo unico ad eccezione dei tokens che sono stati preparati in questo caso quelli dei koboldi che vedete lì dove ho cliccato allora se io volessi muovere questo bitmap cioè questa mappa uso naturalmente selezione muovi e la muovo dove voglio rilasciando mi dovessi pentire di questa operazione è sufficiente schiacciare ctrl z sulla tastiera per farla tornare per tornare indietro di un'operazione quindi come avete visto la mappa si è spostata e allineata all'angolo sinistro inferiore torniamo agli oggetti miniature ora vedete che qui ah no c'è già avevo preparato un albero che è a questo livello che è sul livello mappa se lo sposto viene qui vedete che è sotto la griglia se io clicco pulsante destro gli metto livelli gli dico vai al livello miniature cosa succederà che poi praticamente l'albero è sopra alla griglia semplicemente è sopra al token che c'era del coboldo ma vabbè anche per altri motivi in ogni caso io qui ho il mio token albero destro livelli livello mappa finisce sotto la griglia fa parte integrante del quindi torno sono sempre su oggetti e miniature qui è il livello dove appunto importerete i vostri token poi c'è invece il livello sul quale lavora il dungeon master e che è invisibile ai giocatori noterete notate che qua la mappa è completamente nera si vede solo il token del personaggio è solo una questione di settaggi io ora levo nebbia di guerra solo per comodità poi vi spiegherò meglio così abbiamo una visione totale e difatti a questo punto si vede tutto albero sotto al livello mappa compreso dunque dicevamo annotazione del gm il livello è invisibile al gruppo quindi voi potete inserire oggetti o scritte nascoste non so ad esempio io posso scegliere testo il carattere che mi pare la dimensione il corpo 72 e il colore non so arancione scrivo ciao ok bene se vado a oggetti miniature non lo posso muovere se vado a annotazioni del gm si è diventato un oggetto lo metto qua vicino ok se vado sulla schermata del gruppo non è visibile semplicemente volessi portarla farla vedere non faccio nient'altro che dirgli che voglio che vada per esempio a livello mappa e a questo punto apparirà qui dunque poi illuminazione dinamica allora qua è sempre una questione di settaggi vedete che io qui posso muovere il mio bardo e come muovo cambia la possibilità che ha di vedere in questo caso vede perché perché da qui a qui c'è un'apertura se voi andate sul livello dell'illuminazione dinamica troverete queste questa linea blu che è stata tracciata dal creatore per limitare appunto la vista dei personaggi è un ostacolo è un pezzo è roccia quindi è impossibile vedere oltre quindi da qua non puoi vedere qui però da qui posso vedere qui perché in quest'area non c'è la linea blu che impedisce la vista ok quindi torniamo pure a oggetti miniature un secondo che ho dovuto saltare ma in ogni caso qui dal pennellino avete un disegnaforma il disegnaforma è per questo colore l'esterno l'outline il contorno non so poniamo nero e questo è per l'interno poniamo giallo voglio che il bordo sia extra largo no lo voglio regolare a questo punto vado sulla mappa punto e tiro e mi viene un rettangolo giallo poi ci sono altre cose per esempio con alt viene un cerchio per selezionare questa roba lanciarla via muoverla farci quello che volete dovete tornare a selezione muovi se imparate le chiavi le abbreviazioni è tutto molto più semplice e cancellate sulla tastiera poi c'è mano libera idem come sopra qua azzurro allora faccio un disegno mano libera di nuovo seleziono i nuovi lo seleziono cancello poligono linea segnate un punto sulla mappa e poi andate a seguire quando volete staccare potete fare cursone selezioni i nuovi oppure destro io lo riseleziono e lo lancio via ok qua abbiamo visto cancella i disegni cancella tutto quello che è stato disegnato questi invece sono gli effetti grafici per esempio poniamo che il coboldo sia diventato un drago rosso all'improvviso questo prende soffia e soffia su chi c'è mettiamo che esploda e esplode e via dicendo poi potete divertire a vedere che effetti sono io qui ne ho uno che è come si chiama stato preso e copiato e fa questo effetto ok allora ho sempre cursore poi vediamo la visuale la visuale si spiega da sé qui c'è un 200% qui potete arrivare al 100% scendere fino a 20% così avete una visione totale se cliccate potete fare la stessa cosa agendo su questa barra e poi muovendovi relativamente oppure se cliccate due volte velocemente riportate la visuale al 100% i righelli dunque qua abbiamo settato aggancia al centro e mostra gli altri potremo anche mettere nascondi agli altri serve wargame o in altre situazioni particolari quindi poniamo chi voglio sapere che distanza tra il mio bardo qui e il coboldo punto e arrivo al quadratino desiderato mi dice che sono 20 piedi 4 quadretti quindi 6 metri e 4 quadretti ogni quadretto un metro e mezzo sempre dal righello posso scegliere di agganciare il mio righello agli angoli come in questo caso oppure di non agganciare quindi posso prendere qualsiasi punto bene allora poi invece questa qua diventa la questione rivela area ora noi abbiamo i settaggi in un certo modo con una certa linea di vista vado a cambiarli qua metto nebbia di guerra la abilito faccio ok riclicco sulla page toolbar e mi trovo di nuovo al punto di prima vedete che si è scurito tutto perché si è proprio scurito tutto anche sulla mappa dei giocatori quindi con questa opzione cosa faccio posso rivelare delle aree non solo io seleziono rivela area trascino fin dove voglio quindi illumino tutta questa parte e questo succederà anche per i giocatori le applicazioni poi ve le lascio immaginare qua è per rivela poligoni per esempio facciamo così io cancello tutto faccio ripristina nebbia reset fog quindi di nuovo non si vede nulla io scelgo rivela poligoni e comincio non so per esempio faccio così seguo il come si dice il la roccia torno al punto di partenza vedete che si è illuminata l'area e i giocatori hanno questa visione ok allora quindi di nuovo nascondere sarebbe per cancellare tutto così ho tirato agganciato buon mi rimetto selezione muovi riprendiamo dall'iniziativa cliccate qui sull'orologino quindi l'ordine nel turno la sequenza nel turno come utilizzarla vabbè al solito si può spostare la finestra allargandola a piacere e per aggiungere i personaggi a questa lista bisogna cliccare il personaggio selezionate con il destro e aggiungi turno stessa cosa dicasi per gli altri aggiungi turno aggiungi turno eccoci qui e il nostro coboldo ok qui dove c'è l'ingranaggio ci sono le opzioni di 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 questa sequenza quindi se volete potete scendere scegliere se in ordine alfabetico numerico in base alla carta ecc ecc noi mettiamo discendente è sufficiente così sì ora per tirare effettivamente l'iniziativa dovete andare sui personaggi elf wizard questo qui aprite la scheda trovate qua in core stats iniziativa cliccate su iniziativa e lui tira ha fatto 3 ecco la 3 abbiamo poi half in rogue quindi selezioniamo l'half in rogue ovviamente dovrebbero dovrebbero è una cosa che fanno i giocatori adesso viene lentissimo perché ovviamente sono io a dover aprire tutte le finestre eccetera guerriero nano di nuovo iniziativa no avevo sbagliato il token quindi guerriero nano iniziativa ok mi rimangono il bardo quindi il bardo iniziativa iniziativa i elf wizard ok ok i mostri comunque hanno la loro scheda qui quindi monsters come avete visto qui ha messo in ordine i risultati voi potete scegliere tra scendente discendente quant'altro questo andrebbe bene per D&D una volta che il personaggio ha terminato la sua azione cliccate qui e scorre quindi saprete sempre a chi spetta chi ha di chi è il turno chiaro? però questa è la condizione ottimale in quanto abbiamo delle schede che sono predisposte appunto al lancio dell'iniziativa potrebbe succedere che sono altri sistemi che ne so Cthulhu Ancient Chronicles qualsiasi altra cosa non esista il pulsante per cui vi dovete arrangiare allora di che cosa si tratta? voi cliccate su spazzatura e lanciate via tutto ritorniamo poniamo appunto il caso che non sia possibile collegare i token all'iniziativa bene impostazioni sempre scendente e discendente si tratta di aggiungere degli elementi quindi che ne so personaggio lo approviamo uno aggiungi poi pers due poi pers tre pers quattro e mostro mostro uno ok vedete che io ho tutti qui benissimo per aggiungere dovete fargli tirare individualmente l'iniziativa da 20 da 10 da 6 quello che è e quindi poniamo che questo faccia 20 bene poi questo fa 17 questo fa 12 6 e 2 ok scusatemi ok è lo stesso discorso di prima così fate scorrere e da qua cancellate ok dunque abbiamo visto anche la questione dell'iniziativa qui ci sono i dadi identici a quelli dei dei giocatori quindi da questa lista veloce si sceglie il dado a piacere non so un dado da 8 nella chat nella chat si vede il risultato del vostro tiro e c'è esiste anche una finestra dove trovate altre opzioni quindi avanzata dove potete stabilire scusatemi il numero dei dadi e il tipo di dado e i bonus anche per esempio maggiore e minore vi fa vedere gli ultimi 10 tiri se magari avete fatto 3 dadi da 100 invece che dover compilare i campi qui sopra semplicemente fate reroll e lui tira e numeri tondi ok è buon ultima ma comunque sempre utilissima e fatta molto bene c'è la wiki di roll20 io trovo sempre tutto devo dire e usare roll20 pienamente è al di sopra delle mie possibilità perché per scrivere le api mac vabbè per scrivere le api specialmente bisogna sapere molto 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 e io non so ma immagino che qualcuno sia in grado di farlo poi c'è la guida dei tasti rapidi sempre molto utile all'amministratore al master e per il momento ho concluso il prossimo video sarà sulla barra laterale qui a destra grazie a tutti dell'attenzione al solito e arrivederci alla prossima ciao ciao